L'installazione elettrica in un edificio complesso non deve semplicemente funzionare. Sempre più spesso, i contesti di applicazione richiedono qualcosa in più. In alcuni casi, quando ci si trova in ambienti particolari, la funzionalità ed affidabilità, unite ad integrazione discreta negli spazi, sono prerequisiti. È il caso del settore Luxury, in cui gli impianti, quelli elettrici, devono rispondere a delle caratteristiche ben precise, una tra tutte quella di armonizzarsi con lo spazio che le ospita. Qui siamo all'interno dell'Hotel Gallia di Milano, uno degli hotel più importanti e conosciuti della città. Dalla holla alle suite, tutto fa riferimento ad un contesto di lusso ed eleganza, ed anche la progettazione ha dovuto tenerne conto. Gli spazi alberghieri, come quello in cui ci troviamo adesso, ma in genere la progettazione degli spazi legati alla collettività, necessita di avere un'estrema funzionalità e soprattutto una flessibilità. La scelta dei prodotti deve quindi partire sin dalla progettazione, affidandosi a partner che sappiano rispondere alle esigenze. Le esigenze richiesteci dallo studio Piva, in particolare dall'architetto Bruno, la rivestibilità stessa delle torrette, carabilità, quanto c'è un elevato numero di persone che transitano negli spazi comuni, e quindi il fatto di avere un elemento strutturale, quindi una torretta scomparsa, di qualità, e di una lega metallica, quale l'ottono e l'acciaio inox, si sposava perfettamente con le loro richieste. Come si sceglie quindi un prodotto che deve essere altamente funzionale ed integrabile ad un certo tipo di spazio? Il primo parametro da considerare è sicuramente l'impatto estetico, ma anche caratteristiche come robustezza e durabilità sono da tenere in conto. I materiali quindi, da selezionare già in fase di progettazione. Il materiale utilizzato e selezionato risponde proprio a queste due esigenze principali, cioè ci ha dato la possibilità di differenziarlo in base ai territori in cui si trovava, dal punto di vista estetico, per cui inserendo gli stessi materiali definiti nel mood board di progetto, e allo stesso tempo il fatto che avesse una struttura metallica, per cui non di plastica, questo garantiva una robustezza e una performance completamente diversa da altri prodotti. In casi complessi come quello dell'Hotel Gallia, in cui la funzionalità deve accompagnarsi all'estetica, è necessario che lo studio di progettazione si affianchi a partner con esperienza consolidata. Abbiamo scelto questa azienda perché ha una storicità, prevalentemente in Europa, ma poi ha avuto la possibilità anche di espandersi in altri territori internazionali, decisamente imparagonabile a altre aziende, pertanto la scelta è stata quasi immediata nel selezionare questo tipo di prodotto. Nel momento in cui è stata acquisita nel 2005, l'azienda Ackerman, azienda leader del settore, per la produzione di prodotti elettrici per il sistema sottopavimento e grazie al know-how di entrambe le aziende si è evoluta la tecnicità dei prodotti andando a sposare quelle che sono le esigenze degli attori nel mercato elettrico. L'utente che sceglie Obo Betterman lo fa grazie all'ampia gamba di soluzioni offerte dall'azienda, in grado di adattarsi e di distribuire l'impianto elettrico in ambienti diversi, dove c'è bisogno di trovare una soluzione che si armonizzi nell'estetica degli spazi o che si mimetizzi all'interno del contesto in cui si trova. Obo produce dei prodotti innovativi, quasi esclusivi, che però permettono all'utente, al progettista, allo studio d'architettura, di realizzare dei progetti cuciti su misura. Obo Betterman fornisce un supporto tecnico nei confronti di tutti quelli che sono gli attori principali del mercato elettrico, quindi architetti e progettisti, attraverso lo sviluppo di capitolati tecnici personalizzati. Attraverso una rete commerciale capillare dislocata lungo tutta la penisola permette di trovare il prodotto Obo Betterman facilmente distribuito nel mercato elettrico italiano.